La Venere è alta 2 metri e venti e si presenta con il corpo panneggiato e con tracce di pigmenti rossi, blu e rosa. con i nostri amici in Palermo del Centro di Restorazione. Quindi questo è il principio di molti anni molto interessante. Grazie a tutti. Grazie a tutti.